Benvenuti, benvenuti alla sesta edizione del trofeo, caro sociale comunico Caglio Ecco i partecipanti, Manzelli davanti, segue Saleri, ha il suo piano in salita 3 chilometri e mezzo all'arrivo, gruppo compatto Un chilometro all'arrivo, è Franzelli in fuga, seguono Saleri di Tradi 12 secondi, è Franzelli in fuga, attenzione Cede a 30 metri, attenzione Franzelli, a 30 metri dal titolo si ferma, sembra incredibile, Vittardi vince ancora Non credere amici telespettatori, a piedi gli ultimi 30 metri, uno non ci crede pure così, secondo posto Franzelli, attenzione, complimenti comunque incredibile Ancora sul podio, Saleri, Saleri sul podio, sforzi incredibili Gli ultimi metri di Saleri, attenzione, a 40 metri dall'arrivo ormai, il podio non può sfuggirgli I momenti dell'arrivo, complimenti, terzo posto Saleri, ancora un podio